La parzelletta di Geppo Siamo in un grande ufficio C'è il direttore che convoca uno dei suoi impiegati Un nome a caso Failla Failla entra, si mette a sede nell'ufficio del direttore Il direttore lo guarda e fa così Signor Failla Non so come faremmo In questa azienda senza de lei Failla è il tuo contato Grazie direttore Ma lo scopriremo lunedì prossimo Non prendete esempio Il ritmo della capitale